Le notizie di venerdì 22 febbraio ben trovati. I carabinieri del NAS di Ancona hanno denunciato per brogli in un concorso pubblico le quattro componenti della commissione d'esame per l'assunzione a tempo indeterminato di quattro stetriche presso l'ospedale di Senigallia. Secondo l'indagine coordinata dalla procura di Ancona manipolando le prove d'esame e le graduatorie la commissione avrebbe favorito alcune candidate che avevano già lavorato nel reparto di ostretricia e ginecologia del nosocomio con contratti a termine. Rubata la collana in oro della statua della Madonna nella chiesa di Santa Maria della Neve. I ladri hanno rotto il vetro antisfondamento che la custodisce. Le immagini delle telecamere, circuito chiuso installate all'interno della chiesa, mostrano chiaramente il volto del ladro. Sono in corso le indagini. E ancora ladri nel bar del centro sportivo Vivere Verde, sempre di Senigallia, dove la notte tra mercoledì e giovedì hanno sfondato la porta e preso pochi spiccioli facendo incetta anche di merendine e bibite. Secondo le prime indagini si pensa che ad agire siano stati dei tossicodipendenti. Sicurezza nel centro storico. Vediamo. I commercianti e gli artigiani del centro storico hanno giudicato molto interessante la proposta di collocare un servizio di vigilanza nel centro storico a supporto delle forze dell'ordine. Da un primo riscontro avuto in questi giorni, oltre la metà delle attività sono pronte ad aderire al progetto. L'obiettivo di tranquillizzare e rassicurare i commercianti è nello stesso tempo anche con un'ottica risparmio visto le difficoltà del momento. Questa è la logica che ci ha ispirato, che perlomeno sta ispirando noi come Confcommercio e non è che ci sia qualche preferenza rispetto ad una o un'altra ditta, ma la preferenza sta sul progetto. Perciò sulla validità del progetto proprio per affrontare questo argomento, questa situazione che non è poi così semplice. Non si tratta di blindare la città, si tratta chiaramente di rendere tranquilla la spesa e la frizione del centro storico e dei passaggi, diciamo, un progetto da studiare insieme. Infatti a breve faremo l'assemblea di tutti i commercianti per poi vedere quello che riesce, che si riuscirà a concretizzare rispetto a questo progetto. Cristian Gabarrini, il giovane ingegnere senigallese responsabile della telemetria del pilota, campione del mondo che si stoner, è ufficialmente socio del Motoclub Senigallia. La consegna della tessera è stata formalizzata durante un conviviale organizzato dal Motoclub e svoltosi presso un altro luogo frequentato dal motociclista e non solo, la Via Granda di Attilio Ruggeri. Nuove offerte formative giovanili nei centri di aggregazione. Vediamo. Il 27 febbraio alle 18 si inaugura l'offerta formativa del 2013 dei centri di aggregazione giovanile del comune di Senigallia. Per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, 11-14 anni, solo al Bubamara, parte un servizio di sostegno allo studio con docenti che insegnano un metodo di studio e facilitano la redazione dei compiti. Una novità in via sperimentale è quella del sostegno allo studio per i ragazzi delle scuole medie. Un'idea di sostegno allo studio e di insegnamento di quello che è un po' un metodo di studio, che è il problema un po' più grande per tutti, imparare a capire come studiare per ottimizzare i tempi. All'interno del centro di aggregazione i ragazzi troveranno dei docenti che li aiutano in questo senso, sia dal punto di vista del sostegno allo studio che nell'imparare un metodo di studio. Questo sarà possibile adesso per tre giorni a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 15.30 alle 17.30, in uno spazio che è riservato proprio alla fascia d'età dagli 11 ai 14 anni. Dopo il tutto esaurito, registrato con i mazza murai al Teatro Portone di Senigallia, nuovo appuntamento con la simpatica e preparatissima compagnia teatrale La Rama di Monte San Vito, che andrà in scena con l'apparenza inganna, commedia brillante, in due atti di La Rama, sabato 23 e domenica 24. Questa era l'ultima notizia, ringrazio Michele Manoni per l'assistenza in regia e il montaggio e il nostro appuntamento non è per domani ma per lunedì prossimo. Grazie per averci seguito.